Operazione di controllo ai giardini del Porcinaia d'Arezzo, due le persone denunciate. Questo il bilancio dell'operazione scattata nelle scorse ore. Arrivano infatti oggi i risultati dei controlli effettuati ieri sera, 56 le persone controllate ed anche 10 autovetture. Una task force di 12 uomini Interforce ha condotto ieri sera a una speciale operazione di controllo del territorio ad Arezzo in una delle zone più a rischio delinquenza dell'ultimo periodo, i cosiddetti giardini del Porcinaia, esattamente di fronte alla stazione ferroviaria della città di Arezzo. Intorno alle 19 di ieri sera si sono portate sulla posto gli agenti della Guardia di Finanza di Arezzo e della Polizia di Stato con anche gli addetti dell'Ufficio Immigrazione e poi ancora squadre di uomini dei Carabinieri con le unità cinofile e di vigili urbani della Comando Provinciale Aretino. Nella corso dei controlli è scattata una denuncia per una persona trovata sul territorio ma irregolare perché proveniente da un paese extracomunitario. Un'altra persona identificata invece è stata segnalata perché trovata in possesso di droga per uso personale. Nel mese di giugno poi si dovrebbe aprire il cantiere della amministrazione comunale per il restyling della piazza, un momento che il sindaco della città ha descritto come ulteriore deterrente per le presenze di spacciatori e di coloro che più volte hanno creato scompiglio e preoccupazioni tra residenti e commercianti, soprattutto nelle ultime settimane.